Penso che fuori casa non è semplice, specialmente contro un pro Vercelli che mette molto sull'aggressività, su palle lunghe, che ti mette pressione, anche campo, comunque noi che siamo proprio abituati, però devo dire che ragazzi comunque, come hai detto te, molta sostanza, molto concreti, abbiamo veramente concesso poco, per cui sono molto contento. Sì, assolutamente, penso che loro con questa pressione, come dicevo, con palle lunghe, con inserimenti, calci piazzati, dove lavorano veramente bene, comunque ci hanno messo un po' di difficoltà, al di là che non abbiamo rischiato molto. Poi abbiamo sbagliato 3-4 ripartenze belle, poi alla fine comunque questo anno ha fatto quello che deve fare e poi il secondo tempo comunque ci siamo difesi, potremmo chiudere la prima, però è andata bene. Ma assolutamente, non cambiano gli obiettivi, perché anche oggi si è visto che siamo veramente ancora molto inesperti, abbiamo tanti ragazzi giovanissimi che non hanno mai giocato in B e che non abbiamo ancora capacità proprio di gestire bene, per cui c'è da migliorare ancora tanto, per cui pian piano.